Ciao a tutti, sono Andrea De Rosa e ho deciso di candidarmi con il Movimento Noi perché non voglio più lasciare la mia vita nelle mani di che ho rovinato questo paese. Non ti chiedo solo sostegno per me e per il Movimento Noi, ma ti chiedo di candidarti insieme a noi. Una vera rivoluzione deve partire da noi, cittadini, per questo abbiamo bisogno anche di te. Ti aspettiamo, scriviamo insieme una nuova pagina bianca, una vera pagina di democrazia. Grazie a tutti.